Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento dei dialoghi per l'ambiente, organizzato come sempre dalla Fondazione Corriere e dalla Biblioteca degli Alberi, un ambiente bellissimo che vedete alle nostre spalle. Oggi parliamo del nostro orto tra cielo e terra. Mi viene subito in mente una notizia che avrete letto tutti quanti sui giornali proprio oggi. È stato scoperto un affresco con una pizza a Pompei. Quindi sapete che l'origine della pizza era abbastanza misteriosa, sapevamo chiaramente tutti la storia della pizza margherita, ma abbiamo finalmente la riprova che la pizza nasce assolutamente qui e quindi il fatto che ci fosse una grande catena internazionale, non italiana, che vendeva pizza in tutto il mondo era un elemento contraddittorio e forse anche questo, parleremo anche di questo, del fatto della difesa della nostra proprietà, possiamo dire proprietà culturali, non proprietà intellettuali, ma proprietà culturali sicuramente. Allora per parlare di questa tematica abbiamo invitato Angela Morelli, Information Designer, CEO e cofondatrice di Info Design Lab, a cui do subito benvenuto. Benvenuto Angela. Angela, peraltro Angela ci raggiunge da Oslo dove vive e dove lavora ed è arrivata apposinalmente per questo incontro. Poi abbiamo Juan Camillo Quintero, chef, stella verde Michelin e anche stella Michelin, insomma sapete che adesso c'è una doppia stella da guadagnarsi, c'è la stella tradizionale che tutti noi conosciamo Michelin, ma si è aggiunta anche la stella verde, quindi la stella legata alla sostenibilità e lavora al ristorante di Siena dell'hotel Borgo San Felice. Benvenuto Juan. Buonasera, grazie. E infine abbiamo Luca Travaglini, agricoltore moderno e fondatore e amministratore delegato di Planet Farm, una realtà italiana che forse avrete visto, insomma, perché si vede anche dall'autostrada, insomma, per la sua particolarità, una vertical farm e poi ci racconterai bene che cos'è una vertical farm. Benvenuto Luca. Buonasera, grazie mille a tutti. Allora, io partirei dal nostro chef per tentare di capire, visto che abbiamo fatto questa veloce suggestione sulla pizza Pompei, quindi sul fatto che abbiamo effettivamente un rapporto anche culturale con il cibo e questa cultura va difesa, la difendiamo spesso, inconsapevolmente ogni giorno a tavola. Allora chiederei a Juan Camillo Quintero come si difende questa cultura aggiungendo una variabile non banale che è quella appunto della sostenibilità. Come si fa ad essere sostenibili a tavola? Buonasera a tutti, è un piacere essere qua. È una sfida perché parlare di cibo e di difendere qualcosa che fa parte della nostra cultura nel 2023 è molto diverso di altri tempi, proprio perché ci siamo resi conto che il modo in cui produciamo e distribuiamo il cibo è sbagliato e ci sta portando in qualcosa di sconosciuto ma sicuramente negativo per gli esseri umani. tanto è che si parla di sostenibilità perché dobbiamo riuscire a produrre e consumare cibo in un modo che possa durare nel tempo. Noi cuochi abbiamo la possibilità, prima non era possibile, di avere un'udienza, di parlare con le persone mentre una volta eravamo solo nascosti nelle nostre cucine. credo che sia fondamentale capire che l'azione e il fare qualcosa nell'immediato è l'unico modo per iniziare a vedere dei risultati perché spesso ingenuamente il cuoco compra e acquista le materie a chilometro zero, raccoglie le erbette nell'orto e in questo modo in una mondo dove ci sono 7 miliardi di persone è qualcosa di piuttosto ingenuo e poco efficace. Dal punto di vista personale ma anche dell'azienda per la quale lavoro, Borgo San Felice e la fondazione Allianz Umanamente, abbiamo creato un orto. Questo orto è un progetto che ci serve a coltivare ortaggi e verdure per i nostri ristoranti in hotel ma anche è il nostro modo di approcciarci a quello che tu accennavi prima come sostenibilità, ovvero nel nostro caso dar lavoro a persone disabili. Quindi per chiudere un po' il discorso, dal nostro punto di vista la sostenibilità è agire immediatamente e con qualcosa che crei del valore e cambia la vita delle persone. Questo è un elemento fondamentale che abbiamo appreso purtroppo anche sulla nostra pelle negli ultimi anni. Il tema della sostenibilità non è soltanto qualcosa legato all'ambiente ma è qualcosa di molto più ampio legato anche alla società. Quindi non possiamo pensare a una sostenibilità ambientale che non sia anche una sostenibilità socio-economica. quindi anche quello che raccontavi Juan Camillo è importante. Bisogna pensare a 360 gradi anche al tema dell'integrazione. Ti do una cattiva notizia che siamo arrivati a 8 miliardi quindi si è aggiunto un miliardo di persone il che rende evidentemente proprio questo tema ancora più complesso. Però ti volevo chiedere ancora una cosa. Non è un limite perché tutti noi pensiamo al lavoro di voice chef come a un lavoro giustamente artistico, creativo. Quindi il fatto di aggiungere una variabile così importante non rischia di essere poi un limite a questa creatività in cucina. Guarda, fare cucina è un mondo molto ampio. Io appartengo a una categoria di cuochi che è quello del cuoco artista, quello che fa cucina di autore, quello del ristorante con determinati premi. Ma torno al punto di partenza. Sono tante le persone che mangiano ogni giorno. Quindi in realtà gli operatori dell'oreca che producono pasti sono tantissimi. e il vero cambiamento del futuro dell'agroalimentare è proprio lì, nel creare una consapevolezza generale di tutte le persone, di chi si fa la spesa e cucina a casa o del ristorante che appartiene magari a un imprenditore o a una catena. Noi in questa categoria abbiamo l'occasione di trasmettere, di creare dei trend, di parlare con altre realtà che diciamo creando un network possano nascere delle idee o delle iniziative per poi a catena allargare i progetti e creare come dicevo prima un impatto vero e che non rischi di rimanere in semplice retorica o qualcosa di inefficiente. Quindi giustamente abbiamo iniziato sin dall'inizio la parola cultura perché evidentemente dobbiamo cambiare proprio anche la cultura che abbiamo a tavola, non soltanto la cultura intesa come cultura culinaria ma il nostro approccio al tema del cibo. Volevo parlare anche con Luca Travaglini per introdurre un'altra curvatura nel nostro dibattito che è legato alla scienza e alla tecnologia che potrebbe sembrare una forzatura rispetto a quello che stiamo dicendo perché stiamo parlando di natura, di cibo, di food. In realtà quello che sta emergendo è che questa sfida della sostenibilità richiede anche tantissimi investimenti in ricerca e sviluppo e quindi spesso sapete che il mondo si sta dividendo anche in una forma duplice tra chi pensa che la sostenibilità debba essere inseguita in qualche maniera con un ritorno al passato, con un ritorno a vecchi rituali però c'è il problema che abbiamo appena fatto emergere, 8 miliardi di persone insomma quindi una cosa che non si era mai realizzata nella storia del pianeta Terra e dall'altra chi invece crede che la risposta possa essere appunto la ricerca scientifica e l'innovazione come è sempre stato, d'altra parte noi siamo riusciti a rispondere a questa crescita esponenziale nel novecento della popolazione mondiale proprio alla ricerca scientifica e alla tecnologia. Allora Luca chiedevi appunto come la scienza, come la ricerca scientifica entra in questo dibattito. Innanzitutto i numeri tenderanno a crescere nel senso che nell'arco di vent'anni andremo ad aumentare di almeno un miliardo e mezzo quindi c'è il problema del produrre cibo in modo efficiente e sostenibile è oramai un must, nel senso che se poi guardiamo i numeri impiegati nella produzione del cibo sono numeri importanti perché comunque anche il tema dell'acqua per esempio che ad oggi comunque il 70% dei risorsi idriche mondiali vengono utilizzati nel settore dell'agricoltura e ad oggi l'acqua è un tema molto critico, dobbiamo prenderci cura. Noi l'abbiamo fatto in una maniera leggermente diversa, io purtroppo ho iniziato a fare quello che sto facendo a seguito di un tumore che mi ha cambiato la vita, ma mi ha dato un senso di responsabilità molto forte. Io lavoro nell'industria del cibo da oltre 20 anni, la mia famiglia da 80 e la parola, l'affermazione noi siamo quello che mangiamo è vero. Bisogna e poi penso che a livello culturale un po' tutti, soprattutto dall'avvento del covid, ci siamo resi conto che anche mangiare meglio significa vivere meglio. Noi abbiamo avuto un approccio nell'andare a cercare di rivoluzionare il concetto di agricoltura che è molto alla base, nel senso che la tecnologia che noi abbiamo sviluppato in primis switcha il modello di agricoltura, nel senso che l'agricoltura è sempre stata climate driven, siamo andati a fare dei grossi danni ambientali in vari paesi molto lontani e poi abbiamo una supply chain che consuma un sacco di CO2. Allo stesso tempo spreca, come diceva Juan, un ammontare di cibo disumano. Quante volte vi capita di leggere su delle riviste che abbiamo bisogno di due pianeti a terra per produrre il cibo che abbiamo bisogno. Ma allo stesso tempo c'è un dato, il cibo che viene prodotto il 50% lo buttiamo. Quindi dici, ma le due cose non sono molto correlate e sensate. Noi abbiamo deciso di scommettere su questa visione e quindi io personalmente da quando ho avuto il tumore ho dedicato la mia vita a cercare di sviluppare la tecnologia che nel 2018 con Planet Farm ho creato. Planet Farm ho deciso di scalarla. Noi siamo appunto, con noi l'agricoltura diventa consumer driven, noi non dobbiamo andare a produrre dove ci sono le condizioni per poterlo fare, noi possiamo produrre in cima a questo stupendo edificio, sotto questo splendido edificio, a bordo di una nave, dove in climi terribili al centro del deserto del Sahara noi riusciamo a produrre azzerando quello che è il fattore ambientale esterno. Diventa allo stesso tempo un modello di autosostentamento. Inoltre siamo riusciti a scoprire che riusciamo a produrre un cibo che non è solo molto particolare perché nel nostro sistema di coltivazione non usiamo alcun elemento chimico, non esistono pesticidi, non esistono fitofarmaci, non esiste niente. Io parto da un seme che se vogliamo è agli antipodi dei semi sviluppati per l'agricoltura perché giustamente i semi per l'agricoltura sono andati alla ricerca del superseme, quindi quel seme che possa resistere meglio all'intemperia climatica. Io voglio dare delle esperienze, quindi io sono partito dal seme di una volta, quindi semi senza alcun tipo di trattamento, che però riesco a proteggere da quelli che sono i fattori che possono andargli ad aggredire, patogeni, parassiti, di ogni tipo. Il risultato è sorprendente. Il nostro prodotto è il primo prodotto al mondo che non deve essere lavato per essere consumato, quindi per un consumatore questo significa una shelf life nettamente superiore, un prodotto con una sicurezza accentuata e soprattutto un prodotto che non va a marcire ma bensì appassisce. Quindi un prodotto che comunque ha un impatto ambientale decisamente diverso. Sono partito che ero da solo perché io sono partito che avevo avuto un tumore e sognavo questa nuova forma di agricoltura. Ad oggi siamo un'azienda che siamo in 105 persone. Sono riuscito ad attrare talenti incredibili. Ho un capitale umano di cui non sono fiero di più perché ho trovato delle persone che come me hanno avuto il coraggio di cambiare. Cambiare anche perché ad oggi siamo una realtà molto forte. Una volta non l'eravamo. Provate a pensare di fare quello che ho appena descritto nel periodo storico peggiore perché abbiamo vissuto di tutto. Invece nonostante tutto siamo qui e lo facciamo. E siamo partiti dalle insalate ma il futuro nostro non sono solo le insalate. Ma tra queste persone ci sono anche scienziati o comunque collaborate con degli scienziati? immagino. La nostra agricoltura è un'agricoltura di chimici, fisici, ingegneri, architetti. Ho gente da ogni possibile formazione. Devo dirti che essendo un mondo nuovo che non esisteva ho avuto un po' il coraggio di dire perfetto ma devo poter valutare le persone non sulla base dell'esperienza specifica perché non esisteva ma bensì legato a quello che secondo me era la mission e come queste persone matchavano quello che volevamo fare. Quindi devo dirti che la mia fortuna è che non ho mercenari ma bensì missionari all'interno dell'azienda e ogni giorno vedo che tutti noi insieme cerchiamo di fare la differenza. Allora Angela Morelli, sostanzialmente siamo partiti dal cibo, dall'orto, dal rapporto con la cucina con una cucina stellata addirittura siamo passati attraverso la ricerca scientifica, la tecnologia abbiamo appena sentito parlare di ingegneri, di multidisciplinarità anche nell'affrontare il tema del cibo però siamo partiti dalla parola cultura e torno alla parola cultura perché alla base di tutto questo c'è l'informazione, la corretta informazione che è esattamente un po' la tua sfida, sei un information designer quindi ci vuoi aiutare a capire come un information designer aiuta a rendere tutto ciò facilmente compensibile su larga scala evidentemente, abbiamo parlato prima della popolazione mondiale, adesso senza voler arrivare alla popolazione mondiale comunque un'altra grossa sfida è far capire, ed è anche un po' la sfida chiaramente che affrontiamo al Corriere della Sera e nei giornali in generale, in tutti i media perché il tema è da una parte comprendere e dall'altro riuscire a trasmettere quello che si è compreso. Sì, volevo allacciarmi un attimo a quello che ha detto Luca e partire dall'ingegneria perché il mio viaggio nell'information design parte dagli studi di ingegneria che facevo qui al Politecnico di Milano e dal profondo senso di inadeguatezza che provavo quando mi trovavo di fronte ad informazioni che erano difficili da capire, che erano difficili da decifrare e questo senso di inadeguatezza è stato un po' il motore della mia scelta professionale perché poi mi sono spostata nell'emisfero del design, prima con un master in disegno industriale poi con questo master di information design alla Central Smartings di Londra e durante questo master io mi sono resa conto di quanto l'informazione abbia potere solo se riusciamo a capirla perché? Perché la comprensione può precedere l'azione e il cambiamento però mi chiedevo qual è il modo di professionalizzare questa comunicazione e l'information design che come molti di voi immagino sapranno è proprio questa nicchia della comunicazione che si occupa della trasformazione dei dati complessi in informazioni che sono belle da vedere, che sono comprensibili tanti di voi vedranno infografiche è una sorta di output dell'information design ce ne sono tanti altri perché l'information design è una disciplina giovane però sta crescendo, c'è una ricerca legata all'information design e come ci collochiamo noi? Ci collochiamo proprio nell'ambito della ricerca scientifica e della comunicazione della scienza con un processo che è il processo partecipativo è un processo di co-design che si fonda essenzialmente su due pilastri da una parte ci sono i creatori dei dati ci sono i creatori della conoscenza e i creatori dell'informazione e per poter comunicare dati complessi non si può prescindere dal dialogo con gli scienziati cioè è fondamentale sviscerare i dati capire i rischi capire le sfide di questi dati capire qual è tutta l'informazione tacita che questi scienziati portano dentro di sé quindi è fondamentale capire che tipo di conversazioni bisogna costruire con gli scienziati per individuare i messaggi chiave da comunicare dall'altra parte abbiamo l'altro pilastro che sono gli utenti finali il cosiddetto target audience è fondamentale capire chi sono le persone a cui dobbiamo comunicare con cui dobbiamo comunicare chi riceverà questo messaggio qual è il contesto in cui si trovano dove consumeranno questa informazione allora quello che facciamo con il processo partecipativo è proprio applicare una co-creazione alla comunicazione della scienza per la comunicazione dei dati quindi orchestriamo un processo di co-design in maniera ovviamente professionale per capire quanti sono i touch point o le conversazioni che dobbiamo avere con gli scienziati per individuare i messaggi chiave quali sono tutte le modalità di coinvolgimento degli utenti per individuare come comunicare questi dati e ovviamente il tipo di progetto che facciamo può andare dalla collaborazione con un team di 5-10 scienziati ad una collaborazione di 500-600 scienziati come è stato il caso dell'IPCC abbiamo collaborato con l'IPCC che sarebbe l'Intergovernmental Panel on Climate Change non so perché mi riesce meglio in inglese che in italiano ma in italiano dovrebbe essere il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico che sarebbe questo corpo che in qualche modo passa in rassegna tutta l'informazione a livello mondiale tutta la letteratura scientifica a livello mondiale e crea questi report che a volte richiedono tanti tanti mesi e noi abbiamo collaborato con loro su questi sommari per i decisori politici quindi anche qui un processo di co-design che è durato tanti mesi però altamente professionale perché devi coordinarti in base alle esigenze di tante persone diverse apriamo una finestra su questo perché voi sapete che siamo nell'era dei big data ne avrete sentito parlare tantissime volte avrete anche sentito queste affermazioni che sono anche un po' delle banalizzazioni come i dati sono il nuovo petrolio in realtà quello che abbiamo scoperto negli ultimi anni è che i dati creano una grandissima confusione perché i dati non sono informazione e l'informazione non è conoscenza quindi ci sono almeno tre stati diversi da superare insomma il primo ce l'hai spiegato molto bene il fatto di raccogliere queste informazioni pensate da tutte le ricerche scientifiche sul cambiamento climatico in tantissime lingue in giro per il mondo e poi metterlo insieme e tentare di trasformarle in informazioni ma nemmeno questo è un passaggio finale perché il passaggio finale è poi la comprensione quindi il fatto di creare l'informazione non necessariamente porta le persone a far comprendere a far capire quello di cui stiamo parlando quindi volevo aprire con te proprio una piccola finestra sul rapporto dell'IPCC perché voi sapete, ne avrete sentito parlare quando esce si aprono dibattiti infiniti su quale sia il messaggio finale e si va da interpretazioni catastrofiche a interpretazioni invece positive con piccoli segnali di apertura sul cambiamento climatico quindi immagino quale lavoro colossale ci sia nel dover parlare con questi 500 scienziati ci puoi dire anche qual è il tuo metodo non so se chiamarlo un metodo scientifico ma comunque un metodo di grande pazienza per riuscire a risolvere il dilemma Sì, è un metodo di pazienza e di enorme umiltà bisogna lasciare il proprio ego fuori dalla porta quella è la regola numero uno e bisogna essere dei grandi ascoltatori però ci vuole anche tanta professionalità e preparazione perché bisogna studiare tantissimo ovviamente per comunicare con gli scienziati ci vuole tanto studio nulla è lasciato all'improvvisazione diciamo in nome di questi due track che non sono paralleli perché poi sono in continuo scambio che sono da una parte gli scienziati e dall'altra il target audience quello che facciamo è di solito iniziare ad ascoltare, a creare queste conversazioni con gli scienziati quando ancora i dati non sono stati riassunti perché? perché molto spesso gli scienziati sono in grado di avere quelli che chiamiamo i messaggi chiave in testa al di là di quelli che poi saranno i dettagli e sono bravissimi a riuscirli a comunicare durante il processo di coprogettazione bisogna saperli individuare quindi bisogna saperli estrapolare il processo che noi creiamo è un processo difficile perché non è un processo lineare è un processo iterativo quindi i dati vengono valutati noi creiamo queste conversazioni e c'è una sorta di ripetizione di cicli piano piano raffiniamo i messaggi chiave potrei dirvi che una delle difficoltà enormi sta proprio nel riuscire ad adattarsi al processo di scrittura di questi report non so se voi siete al corrente ma questi report dell'IPCC devono attraversare un certo numero di fasi ci sono questi grandi meeting i lead author meetings si chiamano poi c'è il drafting process dove si scrive poi c'è la revisione poi c'è l'analisi di tutti i commenti perché è un processo assolutamente trasparente quindi vengono raccolti ad esempio nell'ultimo report a cui abbiamo lavorato che è il Physical Science Basis che è stato lanciato nel 2021 sono stati ricevuti 78.000 commenti da esperti, ricercatori di tutto il mondo a cui bisogna dare risposta uno per uno solo 1.500 commenti sulle visualizzazioni è un processo quindi altamente trasparente che però ci permette grazie proprio al contributo di migliaia di persone di raffinare il messaggio il punto è che questo messaggio non ha senso se non si trasforma in conoscenza nella mente dell'utente ed è per questo che ci sono poi all'interno di queste iterazioni importantissimi modi di ingaggiare gli utenti attraverso diverse metodologie una ad esempio è lo user adoption adottare gli utenti dall'inizio del processo e vedere come loro rispondono ai nostri prototipi le chiamiamo anche in-depth conversation quindi conversazioni al dettaglio che ci permettono di capire quando ancora non sappiamo cosa andremo a comunicare ci permettono di capire quali sono i sogni di queste persone in che modo consumano le informazioni e poi ci sono tutte le sessioni ovviamente di user testing che vengono organizzati con scienziati cognitivi con psicologi perché forse da un lato il bello e il brutto della comunicazione e della scienza è che se vogliamo che sia sostenibile cioè se non vogliamo continuare ad investire migliaia e migliaia di risorse in una comunicazione insostenibile che non arriva agli utenti finali dobbiamo inevitabilmente affidarci a processi partecipativi è fondamentale quindi per una comunicazione sostenibile ci servono processi partecipativi e sono delle metodologie di ricerca quindi il nostro goal è proprio cercare di portare quello che abbiamo un po' preso in prestito dal si chiama systems thinking o service design o UX research portarlo proprio nella visualizzazione della scienza nella visualizzazione dei dati per comunicare in maniera sostenibile il che vuol dire arrivare dritti al cervello di chi riceve queste informazioni poi tu mi dirai certo che quando questi report vengono pubblicati è un disastro, è un casino c'è gente che dice questo, c'è gente che dice quest'altro queste visualizzazioni che noi facciamo sono per i decisori politici decisori politici di tutto il mondo quindi non sono per l'utente comune a volte ci chiedono di declinare poi queste visualizzazioni in prodotti comunicativi per la general audience quindi il pubblico più ampio in ogni caso non rimane un esercizio assolutamente facile da nessun punto di vista perché voi sapete che un altro delle grandi lezioni della pandemia è stato il fatto che la scienza non sempre ha risposte certe soprattutto su questi argomenti di frontiera e indivenire insomma il cambiamento climatico è chiaro che tutti noi vorremmo un dato scientifico certo che ci dica magari in che anno accadrà diciamo l'irreparabile in realtà non possiamo saperlo perché è una scienza che tenta di studiare l'elemento indivenire peraltro con una scienza che progredisce che quindi aumenta anche il perimetro della capacità di dare delle risposte quindi in questo ampliamento conoscitivo tutto diventa molto complicato e insomma quindi costruire questo rapporto decisionale in cui tante persone giustamente devono entrare in gioco non è un esercizio facile perché poi necessariamente bisogna arrivare a una sintesi la sintesi come ci hai spiegato benissimo è per i decisori politici e quindi qualunque piccolo errore si può trasformare in un grandissimo danno insomma perché poi una volta presa la decisione chiaramente correggere quella decisione può essere molto complesso Juan Camillo Chintevo volevo tornare a te come chef hai ascoltato quello che ha raccontato prima Luca Travaglini anche sulla ricerca scientifica e tecnologica che c'è dietro la sua azienda e quindi ti chiedo cosa pensa uno chef di fronte anche all'ingresso della tecnologia in cucina perché per certi versi immagino che uno chef sia anche un soggetto dedicato al purismo insomma a un rapporto purista con il cibo tu stesso ci hai parlato del tuo orto però evidentemente ciò che avviene all'interno di una cucina non può essere replicato a livello macro quindi cosa pensi di questo utilizzo della scienza e della tecnologia nella cucina qualcosa che capisci che comprendi è una direzione che secondo te è comprensibile oppure in qualche maniera il tuo rapporto con il cibo rimane un rapporto legato soltanto all'utilizzo dei prodotti del tuo orto la scienza e la tecnologia in cucina sono fondamentali a volte ci si perde un po' in questi discorsi perché cercare di cambiare qualcosa che appartiene alle nostre tradizioni a quello come veniva fatto una volta dalle nonne rischia di essere un'eresia se pensiamo banalmente ai metodi di conservazione cioè il modo in cui noi cuciniamo adesso è figlio dello sviluppo tecnologico le temperature, il frigo, il caldo, il freddo come cuciniamo sicuramente è cambiato tanto e negli ultimi anni in maniera più prepotente e credo che il discorso è proprio capire che a monte l'agricoltura in sé non è naturale cioè l'essere umano si è sviluppato in questo modo qua in società nel momento in cui ha deciso di smettere di andare in giro e ha detto prendiamo dei semi e stabiliamo delle società quindi diciamo anche il mio orto fatto come si faceva cent'anni fa è qualcosa di artificiale tra virgolette qualsiasi modo in cui noi possiamo rivedere il modo in cui produciamo le nostre cose da mangiare sono sicuramente benvenute e noi cuochi abbiamo la possibilità di essere molto più aperti a scoprire e a provare il professore Massimo Montanari è un storico dell'alimentazione molto conosciuto in Italia e proprio lui in un suo libro dice che il modo in cui noi produciamo e consumiamo il nostro cibo è tutt'altro che naturale fa parte della nostra cultura ed è quello che ci rende umani e non una specie come tutte le altre in effetti mi ha fatto venire in mente io ho avuto la possibilità di andare in Namibia recentemente dove sapete vivono ancora gli eredi dei Boshimani che sono stati raccoglitori cacciatori raccoglitori sino fondamentalmente al 1800 però l'esempio che facevi del frigorifero credo che sia molto calzante perché il frigorifero pensate che è una tecnologia che è stata sviluppata fondamentalmente alla fine dell'800 prima erano dei grandi spazi collettivi non esisteva nessuno che avesse il frigorifero in casa evidentemente erano dei grandi spazi collettivi per il mantenimento del cibo e la preservazione della conservazione del cibo per l'intera comunità e poi abbiamo sviluppato la tecnologia che conosciamo e ancora oggi sapete che il frigorifero è considerato un indicatore sociale quindi quando in Italia è arrivato il frigorifero è entrato in tutte le case è stato un momento di sviluppo sociale importante e lo stesso indicatore per esempio adesso viene utilizzato per paesi come la Cina insomma la diffusione del frigorifero è un indicatore molto rilevante anche perché pur essendo una tecnologia e quindi questo può sembrare un paradosso ma è assolutamente in linea ed è coerente con quanto abbiamo raccontato pur essendo una tecnologia invece ha permesso la diffusione del cibo fresco quindi proprio è un esempio lampante di come la tecnologia aiuti anche l'utilizzo del cibo fresco e abbia poi aiutato tutta una serie di trasformazioni sociali che conoscete benissimo come per esempio l'arrivo dei supermercati perché prima visto che le persone non potevano conservare il cibo in casa non c'era la possibilità di avere grandi negozi dove trovare dove trovare tutto allora Luca ci aiuti anche a comprendere come appunto un elemento che può essere naturale ci hai raccontato benissimo come il tuo rapporto con il cibo sia da un certo punto di vista un rapporto che vuole rispettare la natura dall'altro comunque molto aperto nei confronti dell'apporto di tutte le varie discipline ci aiuti a comprendere anche quale potrebbe essere l'ulteriore evoluzione di questo rapporto tra il naturale e l'artificiale in questo momento io devo dire che ho la fortuna di incontrare in questo percorso un sacco di persone che stanno dando un segnale molto forte nel senso che anche lì io ogni tanto guardo tante serie ogni tanto c'è la tendenza in tutte le serie a essere disfattisti è facile in questo momento essere disfattisti in realtà bisogna essere concreti e agire ci sono degli esempi incredibili nel mondo di come ad oggi si possa produrre cibo in modo efficiente al di fuori di quello che è il nostro contesto per esempio su insalate noi lavoriamo con questa società all'Hawaii che ha sviluppato un'alga che pensate è diluita all'1% con il cibo per gli animali riduce le emissioni del 90% e passa ci sono dei metodi di produzione ittica ad oggi perfettamente sostenibili ed efficienti che sono in grado di produrre dei pesci anche migliori di come ad oggi facciamo all'interno di allevamenti intensivi in mare quindi secondo me bisogna farlo poi il tutto devo dire che c'è qualche cosa di molto importante che è la parola del dato nel senso che anche lì il nostro modello non è un modello in antagonismo all'agricoltura tradizionale assolutamente l'opposto nel senso che a me piace paragonare quello che facciamo noi un po' pensare che noi siamo un po' la formula 1 per l'agricoltura la formula 1 per l'automotive non è un problema nel senso che è uno sviluppo di tecnologie che nell'arco di pochi anni trovano spazio anche su un'utilitaria noi abbiamo la fortuna di avere una correlazione perfetta tra il fattore causa e effetto quindi e lavorando con i quattro elementi di madre natura che sono luce, acqua, aria e terra io riesco a lavorare in purezza quindi riesco grazie all'analisi della mole infinita di dati che abbiamo di dare delle risposte concrete all'agricoltura tradizionale fino ad oggi l'agricoltura tradizionale aveva pochi elementi sono gli elementi chimici che però è un ciclo che non è sostenibile perché tu usi chimica che poi bene o male scende nelle falde e tutto allo stesso tempo sprechi un sacco di cibo quindi prova a pensare ogni volta che sprechi del cibo tu sprechi lavoro sprechi energia sprechi risorse naturali quindi bisogna cambiare un po' questo paradigma grazie ai dati noi ad oggi stiamo già facendo stiamo cercando di dare delle risposte concrete ai problemi che affliggono l'agricoltura tradizionale e che si deve evolvere si deve evolvere ma si deve evolvere anche con un fattore di consapevolezza ognuno di noi deve essere responsabile secondo me nel senso che vedo ogni tanto mi capita di entrare in dei supermercati e di trovare dei prodotti a 0, qualcosa al chilo quando noi compriamo quei prodotti secondo me non siamo responsabili nel senso che come pensate cioè se troviamo un prodotto a 0, qualcosa al chilo a noi nei grandi supermercati provate a immaginare quanto viene pagato all'agricoltore l'agricoltore nella filiera del cibo è l'ultimo poverino perché è quello che comunque ha la responsabilità maggiore perché allo stesso tempo noi stiamo chiedendo a questi agricoltori di essere più efficienti prendersi cura delle risorse e evolversi il tutto ciò passa dagli investimenti non si può non c'è evoluzione senza investimento e quindi serve un cambiamento culturale di un qualche cosa che oramai è inevitabile cioè dobbiamo prenderci cura e ci sono gli strumenti chiaramente per avere un futuro eroseo ma deve avvenire oggi e deve avvenire con comunque un senso di responsabilità pubblica di responsabilità di ognuno di noi nell'anche fare determinati sacrifici anche se ci pensate quando pagate un alimento nulla non vi prenderete mai cura di quell'alimento nel senso che molte volte quante volte capita ognuno di voi di dimenticarsi un sacco di cibo nel frigo ecco quello deve un attimo cambiare cambiare come responsabilità cambiare come attenzione a quello che compriamo dobbiamo evitare di avere determinati capricci in determinati momenti dell'anno oramai vogliamo tutto sempre e subito bisogna cambiare un attimo secondo me la prospettiva io distinguerei i due argomenti perché da una parte c'è la giusta responsabilità di imparare a non sprecare chiaramente il fatto di imparare diciamo ad acquistare la giusta quantità di cibo non pensando che poi non ci sia una responsabilità nel gettare quel cibo in eccesso che magari non riusciamo a mangiare o che ci dimentichiamo nel frigorifero rispetto al tema del prezzo onestamente perché non possiamo come dire chiedere a delle persone che magari hanno poche disponibilità economiche di preoccuparsi diciamo di un mondo di una filiera molto complessa che loro non conoscono nemmeno insomma quindi la responsabilità io la spingerei più sulla filiera e sul fatto che diciamo la grande distribuzione magari tende anche ad approfittarsi di questa lunga filiera per ridurre i margini e non far arrivare diciamo il denaro magari proprio all'agricoltore proprio alla persona che ha lavorato insomma quindi è un tema economico molto complesso ma volevo tornare ad Angela Morelli perché sono convinto che alla fine la vera sfida sia esattamente quella di Angela il fatto di aiutarci a trasmettere l'informazione mi ha fatto venire in mente un filosofo dell'antica Grecia che si chiamava Nassimandro Nassimandro era il grande allievo di Talete Talete è il padre della filosofia occidentale Nassimandro lo considera un po' il padre della divulgazione e sottolineo la parola divulgazione proprio perché sino a pochi anni fa avevamo perso un po' l'importanza di questo termine chiaramente il fatto di imparare di comprendere di informare non va contro il fatto che la divulgazione sia un momento un passaggio fondamentale anche perché non ce lo nascondiamo la complessità dietro a questi argomenti è enorme insomma oggi siamo chiamati a comprendere tematiche complessissime come quella dell'intelligenza artificiale della fusione nucleare delle grandi sfide legate al clima e oggettivamente mi capita di parlare anche con dei scienziati di alcuni settori che non capiscono la scienza di altri settori quindi quando c'è quel famoso rapporto dell'IPCC magari è chiaro per gli scienziati del clima ma magari per un fisico delle particelle non è del tutto chiaro insomma quindi c'è una complessità oggettiva e quindi mi faceva piacere raccontarvi l'aneddoto su Anassimandro perché è un po' l'aneddoto legato alla tua sfida Anassimandro a un certo punto sappiamo da uno storico dell'epoca romana che si trova in piazza sta suonando uno strumento musicale dei bambini si mettono a ridere e Anassimandro invece di offendersi fa un ragionamento e dice dovremmo spiegare meglio a bambini la bellezza della musica e quindi mette un po' il seme per utilizzare un termine vicino all'argomento di cui stiamo parlando di quella che è la divulgazione la sfida della divulgazione perché non possiamo semplicemente pensare che sono gli altri a non capire ma la sfida deve partire da noi in particolare da noi appunto dei media da noi giornalisti che facciamo anche da tramite evidentemente in questa complessissima filiera dell'informazione quindi volevo chiudere con te appunto per tentare di comprendere quali possono essere gli elementi perché tu ci hai spiegato benissimo che il tuo lavoro poi è far trasmettere le informazioni ai decisori politici evidentemente a livelli altissimi come quelle delle Nazioni Unite però poi le decisioni che verranno prese a livello di Nazioni Unite ricadono anche nella nostra giornata quotidiana è bellissimo questo 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 aneddoto che ci racconti perché per ritornare alla comprensione se non riusciamo a comprendere non riusciamo a dare valore e forse mi ricollegherei anche a quello che si è detto un po' degli agricoltori e anche alla divulgazione scientifica che viene in qualche modo creata per un audience che è più vasto circa dieci anni fa ero in fase di transizione nel senso che mi ritrovavo a dover capire su che cosa concentrarmi per la mia tesi di master alla Central Smartings a Londra e leggevo un report che è un malloppone di circa 600 pagine che si chiama United Nations World Water Development Report quindi leggevo in un ovviamente 500 pagine in un linguaggio tecnicissimo ma non voglio sfondare le porte aperte del dire che tutti i report dovrebbero avere un target generale perché sarebbe una generalizzazione banale e forse anche non rilevante però io trovai alla pagina 140 circa di questo report una cosa che si chiamava acqua virtuale il concetto di acqua virtuale era la quantità di acqua necessaria a produrre dei prodotti e quando lessi questa questa pagina la prima cosa che mi venne in mente fu ma la gente la sa questa cosa cioè la gente lì fuori la sa questa cosa quindi contattai gli scienziati a sto tempo il fondatore delle Water Footprint Network e il professor Tony Allen a Londra l'inventore del concetto di acqua virtuale e loro mi dissero evidentemente no non la sanno quindi cominciò proprio il mio viaggio nella comunicazione della scienza per cercare di comunicare un piccolo seme affinché la gente potesse dare valore all'acqua e questa storia comincia cosa penseresti se ti dicessi che mangi 3496 litri di acqua ogni giorno 3496 litri di acqua e dicevo continuavamo mangiare acqua sono strano però è esattamente quello che ti faremo vedere perché 3496 litri di acqua li mangiamo perché sono tutti i litri di acqua necessari a produrre il cibo che compriamo il cibo che buttiamo via allora è da una parte abbiamo l'importanza dell'efficienza come ci ricordava Luca l'importanza della sostenibilità nella produzione però dall'altra parte abbiamo anche il dovere di in qualche modo il dovere delle nostre azioni però il dovere delle nostre azioni nasce dal capire quando lanciamo questa infografica dieci anni fa che poi è stata tradotta in otto lingue che poi è stata utilizzata da decisori politici nelle negoziazioni da studenti nelle classi da insegnanti da genitori per insegnare ai bambini abbiamo veramente capito il potere del rendere avvincenti i dati quindi il potere di essere rigorosi ed accurati ma anche il potere di far sognare con responsabilità certo perché alla fine dell'infografica si capisce che ognuno di noi ha una responsabilità che la società ha una responsabilità però ci si lascia uno spiraglio di speranza facendo capire che comunque nel nostro piccolo nel nostro orto nella nostra casa nella nostra comunità possiamo fare qualcosa quindi sta all'individuo sta alla comunità sta ai decisori politici sta ai governi sta agli scienziati sta agli insegnanti sta alle scuole sta a tutti noi però ecco comunicare i dati per far comprendere e far sognare e far spingere all'azione quindi spingere al cambiamento allora su questa immagine del sogno e anche un po' dell'ottimismo che aveva richiamato prima Luca chiudiamo con una piccola citazione da un economista pensate un economista che però anche un filosofo John Maynard Keynes alla fine della sua opera più tecnica in cui affrontava il tema di come far crescere far risollevare l'economia mondiale da quello che era stato il grande crack del 1929 Keynes a un certo punto fa un'affermazione non scientifica ma che noi spesso ritroviamo come legata alla realtà perché Keynes dice è vero che non c'è nessun fondamento scientifico sull'ottimismo e il pessimismo dell'imprenditore ma un imprenditore ottimista avrà più probabilità di successo rispetto a un imprenditore pessimista quindi ci lasciamo con questo ottimismo che però non può che andare di pari passo con la responsabilità che oggi abbiamo richiamato allora io ringrazio Luca Travaglini Angela Morelli Juan Camillo Quintero grazie al pubblico del Corriere.it che ci ha seguito in questo streaming e continuate a seguire i dialoghi per l'ambiente della Fondazione Corriere e della BAM grazie mille grazie a tutti